Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao, Pietro! Ciao, Bruno! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta da aspettarti. Ciao, Bruno. Ciao, Pietro. Mio padre morì quando aveva 62 anni e io 31. È un rudere. Quando tuo papà l'ha vista, ha capito subito che era quella giusta. Ha chiesto a me di costruirla. Questa è la nostra casa dell'estate. Qua ci vediamo ogni anno. Ehi! Ce lo devo dire, questo posto è bellissimo. Torno a novembre. Lo vediamo. Per cos'è che sei nato? Per fare il Montanaro. io non vado da nessuna parte. Guarda che c'è un mondo a fare da qui. Questo confine te lo sei inventato tu? Sì? Sì. Per la tua testa. Bruno! Non preoccuparti per me. Bruno! Questa montagna non mi ha mai fatto male. Oh! 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 Oh!